James Harrison, l'uomo di 81 anni d'età, detentore di tantissime donazioni da record, il soprannominiamo per questo The Man with the Golden Arm, che significa l'uomo dal braccio d'oro, va finalmente in pensione per limiti di età, ma non prima di essersi guadagnato la cosiddetta fama, la cosiddetta popolarità, come eroe della nazione. Il sangue infatti di quest'uomo, unico al mondo, ha anticorpi unici, usati per, o meglio sfruttati per sviluppare un farmaco salvavita, che si chiama Antid, che consente di combattere un rarissimo disturbo nelle donne incerti. Il sangue della mamma, in questi casi, nel gruppo RH negativo, attacca le cellule del feto del gruppo RH positivo, provocando delle peggiori delle ipotesi, danni a livello cerebrale, al nascituro o addirittura la morte naturale. Una storia veramente incredibile, quella di quest'uomo, che riguarda per l'appunto il suo andare in pensione. Bene, complimenti di un po' a lui, il video termina qua, iscrivetevi se volete commentare, un saluto al prossimo video.